Perché in agricoltura si parla di uso razionale dell'acqua? Si parla di uso razionale dell'acqua, quindi di risparmio idrico, perché uno degli effetti dei cambiamenti climatici a livello globale e anche locale è la progressiva diminuzione della disponibilità idrica, in particolare proprio in agricoltura. Questo è dovuto da una parte alla diminuzione delle precipitazioni, in particolare in estate, dall'altra un aumento della richiesta di acqua da parte delle colture, causata dall'aumento delle temperature. Questi effetti hanno prodotto negli ultimi anni e stati particolarmente siccitose, come per esempio quelle del 2012 e del 2007. Pensiamo che nel 2012 la siccità ha provocato danni in regione pari a circa un miliardo di euro. Quali sono gli strumenti per gestire il problema? Grazie alla tecnologia possiamo utilizzare l'acqua in maniera razionale, cioè nelle aree, nei tempi e nelle quantità strettamente necessarie. Per esempio ricorrendo alla cosiddetta agricoltura di precisione, che permette di misurare o stimare accuratamente l'acqua nel suolo o l'acqua nella vegetazione. Oltre a questo è necessario fare affidamento anche alle numerose tecniche agronomiche che consentono il risparmio idrico, per esempio la subirrigazione che consente di irrigare esattamente dove sono le radici, la pacciamatura che limita le perdite per evaporazione dal suolo, utilizzando per esempio anche materiali innovativi biodegradabili, l'utilizzo di colture e varietà meno esigenti dal punto di vista irriguo, la realizzazione di invasi anche di dimensioni ridotte e altre tecniche che consentono all'agricoltura di adattarsi ai cambiamenti climatici. Quali sono le attività di Arpae su questo tema? Nel 2017 è stato istituito in Arpae l'Osservatorio Clima, che ha il compito di studiare i cambiamenti climatici in atto e futuri e il loro impatto sulle attività antropiche e sui sistemi naturali. L'Osservatorio svolge attività di ricerca, partecipando per esempio a numerosi progetti europei e attività operative. Tra queste, per esempio, l'Osservatorio svolge il monitoraggio della siccità, che prevede l'acquisizione di dati come precipitazioni, temperature, neve, portate dei fiumi, acqua nel suolo, stato della vegetazione e il calcolo di opportuni indici riassuntivi sullo stato idrico che consentono anche ai decisori politici di prendere misure e iniziative per il risparmio idrico.